Salve fanciulli, salve fanciulle! Allora, riprendiamoci il nostro spazio, cercando di fare sempre almeno un video al giorno, al di là di quelli molto brevi. Ovviamente prendete sempre questo materiale, materiale condiviso, come un momento di compagnia, di riflessione ovviamente, però utilizzatelo sempre solo come spunto di riflessione, e non come Vangelo di tutta verità assoluta, ci mancherebbe. Tutto al più vi può fare da specchio, ma quello che vi comunica è il vostro modo di reagire rispetto a ciò che sentite. Infatti, l'utilità è quando vi viene da dire, no, le cose non stanno così, stai sbagliando tutto. Quello è il momento migliore, perché vuol dire che dentro di voi, relativamente a un argomento, c'è una risposta a una visione del mondo più che chiare. Sia la risposta che la visione del mondo. E allora lì basta guardarsi dentro, perché Socrate ce lo insegna la verità. Ce la portiamo, non vorrei dire nella pancia, quando ce la abbiamo, però nel cuore, nella mente, o giù di lì. Ora, al di là di questo, cosa andiamo ad analizzare? Tu e lui, distanti, lui che in realtà conviveva con te, però a casa c'era qualcosa, qualcuno, una mamma, un papà, una situazione, qualcosa. E lui ti chiede di andare a convivere con lui, uscendo da questo contesto che può essere diverso per ciascuno di voi. Magari è la casa che non gli piaceva, il luogo, la città, lontana dal lavoro. Ripeto, ciascuno sa di cosa stiamo parlando. Solo che tu non hai potuto abbandonare subito la tua dimensione. Di conseguenza hai chiesto la possibilità di avere del tempo. Lui, nel frattempo, va a vivere per fatti propri, ed ecco che inizia a frequentare un'altra o un altro. Tu lo scopri, e lì poi, una volta scoperto, ha dovuto comunque continuare con questa storia. O meglio, ha dovuto perché lo hai scoperto, o è realmente preso, perché poi, con la donna nuova, l'uomo nuovo, inquadriamo bene la situazione, lui non sta mica convivendo. Forse neanche lì l'avrà chiesto. Però, se tu chiedi spiegazioni di questo comportamento strano, lui ti dice di farti fatti tuoi, perché a lui stanno bene così le cose. Lui, ovviamente o a lei, è sempre un po' complicato cercare di inquadrare il punto di partenza. Però, voglio darvi tutte le indicazioni necessarie, in base a quelle che sono le vostre richieste, per ricostruire un contesto che vi possa risuonare, oppure no. E quindi andate oltre questo video, magari non parlo a voi, anche se poi i video generali, che sono per definizione generici, possono comunque veicolare una qualche sincronicità. Se vi fa piacere, lasciatemi il commento per interagire e capire se è stato quanto meno di compagnia. E inoltre, se avete sempre il piacere e la volontà di aiutarmi a far crescere il canale, vi potete iscrivere. L'iscrizione si fa cliccando il tasto che trovate sull'home page. Potete anche cliccare la campanella, ma solo se volete le notifiche. Perché in realtà, anche iscriversi senza campanella va benissimo. Perché il vostro sostegno al canale lo state comunque dando. Così come con i super tanks, vi ringrazio per le persone che lasciano dei super tanks. E per i consulti personali, ricordatevi che il solo modo per entrare in contatto con me è attraverso un'email tarocchi-viaggioalchemico-gmail.com Non accettate consulti dagli sconosciuti, è il nuovo mio slogan per ricordarvi che c'è chi copia la pagina e crea canali realtà su TikTok e Instagram parallele. Stesso logo, stesso nome, stessi contenuti praticamente proprio rubati dal canale. Però queste persone vi contattano, non sono io e sono truffe. Le carte le mettiamo al dritto, le interpretiamo per come si danno, parlo come se fosse un uomo verso una donna, solamente per convenzione. Direi di cominciare, ma la cosa che io voglio sapere innanzitutto è se tra di voi la situazione si è davvero conclusa. Perché magari le carte ci diranno che no, non è finita qui. Allora, tra di voi questa situazione si è chiusa del tutto e iniziamo con la carta della morte. Ma la curiosità, che in realtà già si legge, è che abbiamo al di qua. Cioè una chiusura? Eppure questa è già una ripartenza. È però pure un taglionetto, verso qualcosa che risorge. Cioè già è sorta, allora risorge. Inoltre si deve creare un collegamento, un ponte, tra queste due colonne che sono distanti. Ma se si fa chiarezza al sole, il ponte, l'arco, no? Con il sole, effettivamente c'è il pontifex. Dello stesso colore del sole, non è mai un caso. Chi è che evolve? Chi è che muta nel frattempo? La conseguenza di questa trasformazione profonda? Chi viene fuori dalla crisalide? Oreri Bastoni, un uomo concreto, un uomo che impara, anzi ha imparato dalle esperienze del passato. E cosa può e vuole fare questo Oreri Bastoni? Torna nella tua vita o consolida la situazione ufficiale del momento? Tra di voi è finita o si può ricostruire? Visto che poi il re di Bastoni è anche un personaggio molto pratico. Ma va detto una cosa, e qui bisogna utilizzare anche la psicologia inversa. Nella misura in cui lui ha lo scettro tra le mani. Cioè lui vuole avere la certezza che in fondo le decisioni le prende lui. E prendilo in giro, faglielo credere. Cioè di quelle situazioni in cui è come se uno dovesse avere un certo tipo di comportamento che porta l'altro ad incarnare un cambiamento profondo radicale e poi veritiero reale. Ma senza rendersi conto che tu hai un po' favorito quel cambiamento. Ma pensando, no questa cosa l'ho fatta perché l'ho decisa io. Non è manipolazione, non sono ritualistiche. La psicologia inversa è semplicemente cercare di capire come ottenere un risultato e se un comportamento fino ad oggi ha dato il risultato opposto forse ci poniamo il problema che dobbiamo cambiare noi il comportamento. Visto che poi tutte le filosofie ci insegnano che non puoi cambiare il mondo all'esterno. Per filosofia intendo gli esoterismi di determinate religioni e spiritualità, anzi più che religioni. Ma se cambi te stesso cambia il mondo di riflesso. Essendo tu una parte del tutto, se cambi la parte si adegua anche il tutto. È come se tu vuoi cambiare la forma di un tassello del puzzle per quadrare poi con il puzzle il puzzle che si deve adeguare al tassello. Quindi vediamo se un qualche cambiamento dentro te, quindi questa trasformazione reciproca può portare un cambiamento anche in lui per capire a cosa siete destinati. Persona molto razionale e tu altrettanto. Quindi qui ci scontriamo su un terreno comune con lo stesso tipo di arma, il linguaggio. Parliamo e non ci comprendiamo. Quindi questo è un limite. È la trasformazione profonda farfalla e metamorfosi, coronata di farfalle. Il re di spalle e le farfalle ce l'ha dietro il trono. Cioè meglio non dietro, dietro le spalle, sullo schienale. Non so come dire, su questa parete che dà l'impressione di essere la parte del trono sul quale poggia la sua schiena. E poi qui ci sono anche delle donne che danzano, un'armonia, una leggerezza, personaggi alati. Allora, quando voi parlate non vi comprendete al 100%, perché il modo in cui vi relazionate, anche evidentemente per dei residui, scarti karmici, cose del passato, fraintendimenti e incomprensioni, fa sì che ci si possa ancora, appunto, confondere e fraintendere. Quindi si inizia con il voler parlare per chiarire, capirsi, e si finisce con l'aver fatto peggio, come si suol dire. Cioè, avevo delle buone intenzioni, poi però abbiamo cominciato a parlare, il nostro parlare è diventato un litigare. Tutto avrei voluto fare tranne che litigare con te, e alla fine ho litigato, abbiamo litigato. Quindi cercare di cambiare il modo di comunicare. Bisogna comunicare senza farlo con una finalità specifica. O meglio, a volte si piega quello che vi dite, il messaggio, all'obiettivo. Invece bisognerebbe parlare con il cuore in mano, come se si trattasse di darsi come un libro aperto. Eh sì, mettersi a nudo, senza nessuna forma di, potremmo dire, canovaccio. Ecco, già immaginato e pensato. Se dico questo e mi risponde questo, allora io dico questo e gli rispondo questo. Ho già disposto lungo il cammino dei paletti che sono utili, perché mi aiutano ad andare avanti. Se dovesse avere un blocco, ecco che mi gioco questo argomento. No, allora, in questo caso il legame tra voi comunque c'è. Viene da lontano, può avere a che fare anche con incarnazioni del passato. Quindi comunque tra di voi qualcosa di importante esiste e sussiste. Ciò non toglie che non finendo la nostra esperienza di esistenza con l'incarnazione attuale, ce ne saranno molte altre, infinite altre incarnazioni, ecco che in questo capitolo che può durare anche cent'anni, potrebbe esserci il riconoscersi ma il non riuscire ad andare d'accordo e poi non riuscire a vivere concretamente un'unione che invece prima o poi si darà nuovamente, tornerà quello che siete già stati, uniti, tornerete, uniti. Quindi in questo caso il primo consiglio, visto che non è chiusa qui, non è finita qui, ma dei tempisti che sono un grande punto interrogativo, è mettersi a nudo, comunicare davvero con il cuore in mano, cioè non cercare più la risposta ai nostri dubbi. Io non comunico con te per farti domande, ma per darti delle informazioni. Se cambiassi già la forma del mio rapportarmi con te, dal punto interrogativo ad una narrazione intimista in cui ti vengo a dire solo quello che nonostante tutto provo, immaginati questo contesto. Tu che sai tutto quello che è accaduto, alcune cose non le sai, non le puoi sapere, ma le accetti per quello che sono, dubbio, che vai da questo uomo e dici io nonostante tutto ti voglio bene, io nonostante tutto ti sto aspettando, io nonostante tutto però non mi aspetto che tu sia d'accordo con me, non voglio litigare, non te ne faccio più le domande per indagare, visto che tanto poi mi dai la risposta polemica, perché con lei non convivi i fatti fatti tuoi. Allora l'affermazione potrebbe essere, ma se riprovassimo a convivere noi, che ne dici, forse ho capito, forse ho sbagliato anche io, quando ci si fraintende l'errore è da ambo le parti, e se ci dessimo una nuova opportunità, magari non adesso, anche in forma scherzosa, se domani tu dovessi tornare sui tuoi passi, andare avanti, libero, perché la storia che stai vivendo con tutto il bene del mondo, magari può anche essere solo un frangente della tua esistenza, me la concederessi un'altra opportunità? E' ovvio, bisogna vincere l'orgoglio, bisogna non sentirsi sconfitti, umiliati, e bisogna non farsi zerbino, trovare un registro linguistico che può essere a volte non il terzo grado, che non porta niente di ironia, allora a questo punto cosa potrebbe accadere? Cioè, se tu mettessi in campo un tipo di comportamento simile a questo, tra di voi, che cosa potrebbe effettivamente darsi ed accadere? Lui che torna sui tuoi passi, allora, di là che le carte possano avere, possono avere tanti significati, o meglio, ne hanno alcuni, proprio standard, però poi va declinata l'immagine con le carte che precedono, con le carte che seguiranno, con ciò che abbiamo anche detto, perché le carte hanno questo grande potere, spesso ci restituiscono nella dinamica, nel movimento dell'immagine, proprio la frase che abbiamo pronunciato un attimo prima, un attimo prima, se mai no, un domani tu dovessi tornare sui tuoi passi, o da libero, quindi solo, perché la storia magari finisce, andare oltre, me la concederessi una possibilità, ce la concederessi come coppia una possibilità? Vediamo, dove va questo otto di coppia? E' vero che l'otto di coppia è una carta di povertà nel sentimento, in un certo qual modo, no? Manca sempre un soldo per fare una lira, cioè queste sono otto coppie, però la disposizione, che non è casuale, fa percepire all'occhio la mancanza di una coppa qui, e proprio qui dove c'è una mancanza, c'è la spinta, il piede, che porta l'uomo a muoversi, a allontanarsi, quindi una persona sola, che in realtà è una persona che si sente vuota. Ora, andiamo a vedere, cosa potrebbe accadere tra di voi, vediamo se questa dinamica viene superata. Beh, non è assolutamente semplice, accettare una proposta del genere, per lui, che paradossalmente si sente pure in colpa, perché poi alla fine la colpa non è tua, o non lo è al 100%, poniamo anche il caso che una minima parte possa essere anche colpa tua, mettiamola così, lui si è allontanato perché gli mancava qualcosa nel rapporto ufficiale. Però no, in questo caso lui ha davvero voluto sperimentare nella confusione di ciò che poi alla fine è andato a vivere, una situazione che si è rivelata distruttiva e non costruttiva, quindi lui magari taglia a corto quando deve parlare di questa donna e se gli fa delle domande non risponde più di tanto e si infastidisce, perché ora deve tenere a galla questa barca e deve comunque andare avanti con quello che ha iniziato. Però poi all'atto pratico non è felice, non vede una coppia serena. Allora, di tante carte, le carte con degli edifici, oltre alla torre sono tre di pentacoli, il quarto di spade, non ci sono molte carte con edifici, certo, anche il sei di coppe si vedono le casette, la torre e la casetta, però per dire, in questo caso anche l'idea di una eventuale convivenza nella situazione attuale che io vivo, che comunque ha un rapporto superficiale, per me è triangolare, cioè se mi viene la carta del triangolo, tecnicamente nella mia mente, anche l'idea di poter tornare sui propri passi, sui miei passi, cioè io mi sento un traditore verso di te, non dovrei sentirmi traditore, perché in fondo all'atto pratico posso dire, guarda che questa situazione è iniziata quando io mi ero già allontanato, però in realtà altre di spade vien fuori, sono tutte carte con le nubi, con un cielo molto simile, dove la cosa meno ambigua è il colore dell'acqua, del sentimento, ma in questo caso il sentimento resta superficiale, quindi questa situazione dovrebbe chiudersi tra di loro, però lui non vuole assolutamente pensarci ora, e se ora gli fai una domanda del genere, risponde male, o meglio si chiude, ti potrebbe trattare male, al che dobbiamo cercare di capire una cosa, vale la pena correre il rischio di una rispostaccia, cioè poniamo il caso che lui mi risponda male, perché però ho colto nel segno, e quella mia affermazione, provoca una prima reazione, che mi può anche spaventare, e deludere, però magari il seme l'ho messo nel terreno, quindi vale la pena correre il rischio di un litigio, ma anche un litigio pesante, altro che fatti fatti tuoi, però poi non è che io intanto ho fatto centro, e con il tempo quel litigio, io lo recupero con gli interessi, e quello che mi torna indietro, può essere frutto proprio del fatto che io me la sono giocata totalmente, prendendomi anche un bello schiaffo morale, però la prima cosa è cercare di capire anche da parte tua, se tu questo uomo però lo vuoi nella tua vita, perché questa è un'altra cosa importante, cioè questo uomo tu lo vuoi nella tua esistenza, quindi andiamo a vedere cosa abbiamo, beh sicuramente non c'è nessun movimento nell'immediato, ma in proiezione futura, con una tempistica comunque per ora lunga, e se non lunga lenta, c'è la possibilità di riprendere e andare avanti, ora la chiusura è per orgoglio, o perché davvero adesso non prova più niente, la sua chiusura nei tuoi confronti è per orgoglio, qui vola tutto, allora queste si sono voltate, e confermo il movimento che abbiamo detto, che se non è lunga l'attesa è lentissima, il cavaliere di pentacoli ce lo conferma al 100%, e nel frattempo però queste esperienze vi stanno portando, chi per un motivo e chi per un altro, a ritrovare un equilibrio carmico, perché evidentemente non lo possiamo sapere con certezza, ma non lo possiamo neanche escludere, forse in un'incarnazione passata, questa situazione in qualche modo l'avevate già un pochettino anticipata, con comportamenti che sono nell'oggi causa di quello che vivete, la regina di bastoni, ce la fa a reggere il contraccolpo dello schiaffone, si cade a testa in giù, quindi litiga, lui la tratta male male, ma lei non ti preoccupare, si risolleva da quella condizione, un po' da, non dico zerbino, mi sono umiliata, mi sono abbassata davanti a lui, e no guarda che questo scendere e abbassarsi, poi piano piano ti fa risollevare e arrivi alla vittoria, guarda qua, guarda qua, no vabbè, cioè queste sono saltate tutte assieme, cioè si è dato uno scenario futuro, neanche fosse un fumetto, con le varie stanze del fumetto, non so come si chiamano, meraviglioso, il brindisi, che è la carta che praticamente rilancia nulla lotto di coppe, con questa abbondanza della regina di coppe, che ancora non vede che si avvicinerà un cavaliere che brinderà con lei, eccolo qui, eccola la terza coppa, e abbiamo ricostruito questo contesto qui, questa posizione qui, eccola qua, quindi la possibilità c'è assolutamente, ci vogliamo prendere in giro e ingannarci, no, le tempistiche qui possono anche essere tempistiche di anni, cioè, il punto è, una qualsiasi dinamica che lega due o più persone, in questo caso sono più persone, perché adesso c'è anche il terzo incomodo, la terza incomoda, fa sì che vari libero arbitrio, liberi, arbitri, non so come dire, vabbè, abbiano un peso specifico nel darsi degli eventi, quindi tu puoi lavorare su te stessa, se realizzi la tua natura profonda, fai sì che il contesto intorno possa allinearsi quanto prima a ciò che deve necessariamente accadere, non puoi obbligare lui ad avere le tue stesse tempistiche, e non puoi obbligare lei e lui tra di loro a bruciare subito quella che è la dinamica che li ha fatti comunque incontrare, perché il fatto che possa esserci una dinamica karmica molto forte fra due persone, non esclude il fatto che queste persone abbiano per priorità e gradazione differente, intensità differente e dinamiche karmiche anche tra loro, magari tra di voi c'è un fortissimo legame perché siete anime giovenne, magari tra di loro in una incarnazione passata sono stati fratello e sorella, madre e figlio, comunque c'è qualcosa, però le carte fanno notare che, e arriviamo un attimo al punto per fare poi le altre domande, e andiamo a vedere perché non ha chiesto a questa donna di convivere, qual è la differenza con l'averlo chiesto a te e non averlo chiesto a lei? Allora, ora come ora lui è sul piede di guerra, piuttosto aggressivo e maldisposto, non vuole che gli vengano fatte domande, men che meno il terzo grado, non mi fare la morale e non mi fare domande, non ti vuole rispondere, se ti imponi con le domande, rischi una rispostaccia, magari vi prendete a parole, vi bloccate, cioè proprio il finimondo, perché questa è anche la carta del finimondo, però dopo il finimondo non è detto che il mondo non possa ricominciare, d'altronde abbiamo aperto con la carta della morte che dice, per qualcosa che finisce qualcosa ricomincia, e nella carta del 2 di bastoni, poi c'è il mondo tra le mani, quando deciderà di rimuoversi verso di te, lentamente, si va verso il nuovo mondo, il nuovo mondo, sembra l'America, però parlare dell'America, parlare della terra, dove tutto può, i sogni diventano desideri, quindi anche se nell'oggi non sembra plausibile possibile, è proprio un sogno che può diventare una realtà, quindi non puoi escluderlo, se lo puoi pensare lo puoi fare, direbbe Walt Disney, gran massone, ma al di là di questo, la dinamica mostra sempre, ma giocatela questa possibilità, ma che ti importa, sto dicendo un'altra cosa, ma poi ci censura tutto qui, non usiamo parole, non usiamo volgarità, però, sarebbe stata molto bene un'affermazione un po' più colorita, ma giocatela questa possibilità, male che va, non cambia nulla, cioè ad oggi la situazione sembra chiusa, tu giocatela, perché mettere un seme importante, questo seme importante, dalle carte che abbiamo voltato dopo, fa vedere che in realtà c'è il raggiungimento di un obiettivo, che non è solo positivo, è il migliore obiettivo plausibile, ipotizzabile, immaginabile, quindi no, la situazione non è chiusa a questo, più che altro, si è andato ad incastrare, in un contesto, nel quale per me non è felice, però ora come ora, non volendo tornare sui propri passi, visto che, ripeto, le tempistiche possono essere anche lunghe, se lo deve far andare bene, e se mi devo far andare bene, un contesto, già non mi piace, già mi devo adeguare, e figuriamoci se vieni tu, a farmi notare anche che hai ragione tu, e che a me non piace, quello che però ho deciso di fare, perché? Perché non voglio, non posso tornare ora con te, ora, la prima domanda è, perché a che sto a te di convivere? Vediamo che cosa viene fuori, e poi vediamo se lui ha una qualche, voglia, volontà di convivere con lei, lui, perché a che sto a te di convivere? Lui, perché, è a che sto a te di convivere? Forza. Allora, vediamo un po' la forza, il nostro paggio di pentacoli, andarci lentamente, forse il rapporto si stava un po' raffreddando, e quindi lui deve aver sperimentato una sensazione di chiusura, prima di farti questa proposta, e quindi potrebbe essersi forzato, nel fare questa proposta, lui in realtà si era già allontanato un po' da te. Nell'ultimo periodo, tante responsabilità, forse viveva come pesante il contesto quotidiano, ma lui lo ha fatto, per avere una scusa per allontanarsi, perché sentiva il bisogno di recuperare un'intimità esclusiva con te, senza altre persone intorno, anche persone buone, amate di famiglia, perché lo ha fatto? Eh sì, allora, l'amaro in bocca di non vivere un contesto sereno dal punto di vista del sentimento, cioè come se fossimo diventati troppo adulti e responsabili tutt'assieme, solo la responsabilità e niente più piaceri di questo nostro rapporto. Io ho iniziato a soffrire all'interno della nostra storia, e ho preso le distanze, però prendendo le distanze ho anche capito cose, quindi non è che lui non ha nulla che voglia e possa recuperare, o sviluppare e portare avanti della vostra storia, però le idee di pentacoli, che spesso, a seconda delle domande, è anche l'uomo responsabile, che magari ha l'amante, però non si concede all'amante, e chiude, ti amo troppo, ma chiudo perché io devo comunque essere corretto, nei confronti della mia famiglia, anche se la mia famiglia non mi ama e non l'amo. Cioè questo imporsi un moralismo che diventa un comportamento veramente congruente con quella morale, ma che condanna la sofferenza. In questo caso non è questo il contesto, però il mood di questo re è quello, di persona che accetta i doveri, ma i doveri poi lo schiacciano, e in fondo se gli fai la domanda vera e ha il coraggio reale di rispondere, lui non è contento. No, e da lì è esploso tutto. Quindi lui ha fatto quel tentativo come quando uno dice salviamo il salvabile, giochiamocene tutte, vediamo se questo rapporto è giunto al capolinea. Solo che non ne ha parlato con te, ha agito senza spiegarti, senza darti la possibilità di scegliere e costruire qualcosa di concreto assieme con delle tempistiche fattibili all'interno dello stesso accampamento un pochettino ha anche giocato di strategia. Perché? Questo non vuol dire che quando lo ha fatto aveva già in mente di allontanarsi, tradirti e cercare un'altra. È arrivato al punto che precede l'esplosione e prima di scoppiare, perché ha sempre tenuto tutto dentro, e magari anche questo è scorretto, perché se siamo una coppia le cose ce le dovremmo dire, ma abbiamo capito che anche il punto debole, il tallone d'Achille di questa coppia vorrebbe essere la comunicazione, o perché ci si fraintende, o perché non si comunica. In questo caso lui non ti ha messo nella condizione di comprendere bene quello che lui stava vivendo interiormente e che poi all'improvviso ha palesato all'esterno. Ora, quando questa storia nuova è iniziata, lui ha mai avuto l'idea di invitarla a convivere? Magari lei ha detto no. Io credo di sì. Guarda che in questo caso lui ci ha pensato all'inizio. Ah no, non gliel'ha detto. Vediamo perché. Quindi non è lei che ha detto no. No, abbiamo ricordato no? Le carte con gli edifici, tra cui il quattro di spade, che è anche una carta di pensiero, desiderio, speranza. Però è anche una carta di preoccupazione all'interno, in questo caso, dell'edificio. Due carte numero quattro, quindi due carte molto solide. Allora, con quella nuova mi sono allontanato, perché questo è un personaggio che si allontana dalla città, la città dove sono le case, la vita. Quindi con la persona nuova, stavo facendo volare il cellulare. Questa idea che per me è importante, cioè per me la coppia si è davvero coppia e deve costruire e coronare un sogno e deve convivere. Però con quella nuova, questa idea no, è stata allontanata da me. L'ho allontanata da me l'idea. E perché? Vediamo come mai. Secondo me, come canterebbe Califano, non escludo il ritorno. Solo che adesso il carro è fermo. Ma lui è sul carro. Cioè, il personaggio è come se stesse aspettando che il traffico torni ad essere fluido scorrevone. Se non volesse muoversi, scenderebbe dal carro. Eccolo qui il ritorno. Che non è da escludersi, è all'interno dell'edificio, questa volta cooperare e collaborare. Beh, è sottile questa cosa. Cerchiamo di vedere di nuovo la stessa domanda con un altro mazzo. Sempre per avere un altro punto di vista e mettere in discussione la risposta. Quindi facciamo un po' l'avvocato del diavolo. Per capire bene. Quindi per questo uomo il coronare un sogno d'amore è una cosa reale. Non è un Don Giovanni di indole per indole. Però, in un certo modo, con l'armonia, non voglio il fardello sulle spalle di altre tue responsabilità. Cioè, io se devo vivere la coppia, me la voglio vivere la coppia. Io e te eravamo fusi. Poi c'erano i bambini, i figli. Ma non gli adulti, gli altri. La casetta all'orizzonte è questo fiume che porta verso casa. Quindi se tutto scorresse nel migliore dei modi, la finalità è realizzare quel tipo di contesto, casa. Però, re di pentacoli, che è concreto, solido e molto diretto, si allontana dall'idea di coronare questo sogno con quella nuova. E la domanda è ma lui con quella nuova ci vuole convivere, magari non ora, ma in futuro potrebbe voler convivere con lei? Beh, ne passa l'acqua sotto i ponti. Omaggio e ladro. Una persona che pensa a qualcosa dopo essere stata forse scorretta o preso qualcosa in modo scorretto. Tuttora ci sto pensando. Relativamente a una situazione di vecchia data. Quindi lui, con quella nuova, vuole convivere messaggio, militare, amante, successo, rivelazione. Vediamo un po'. Allora, in questo caso, con quella nuova, c'è un elemento che gioca al loro vantaggio e che potrebbe far durare la storia per un po'. Tra di loro si comunica meglio. Magari è meno preso sentimentalmente, fisicamente gli piace, quindi se lui dice a me la situazione sta bene così, è vero. Però non è un santo neanche nei confronti di quella nuova che con il tempo potrebbe anche scoprire quello che lui fa e magari lui ancora cerca di te. Cioè, come tu hai scoperto di lei, lei potrebbe scoprire di te e quindi che lui non ha chiuso totalmente con te. Perché la carta del Gran Signore è un uomo di successo, bello, visto, amato, ammirato, che però potrebbe alla fine se è preso di nuovo con le mani nel sacco fare un po' la figura del narcisista o essere additato come persona piuttosto negativa, nonché ribadisco ancora lo stesso termine, scorretta. Ora, che cosa ci vogliono dire le carte? Visto che non rispondono alla domanda sulla convivenza, ma fanno sapere che tra di loro la comunicazione funziona, però è il nemico dentro casa. Quindi io non mi metto un nemico dentro casa. Ah, ok. Allora, ad oggi lui non ha deciso di chiudere con te, ma neanche riaprirà a breve. Però la sua intenzione non è di interrompere le comunicazioni, per quanto magari stia lì a pensare che tra di voi non funziona più nulla. Però le cose con il tempo possono cambiare ed evolvere, quindi se il ponte resta, prima o poi qualcuno lo può percorrere avvicinandosi all'altro. Comunque non ha chiuso la porta. Non vuole che tu gli faccia domande o un altro paio di maniche. Però, d'altronde lui ancora ti sfia, ti osserva. Quindi se lei scoprisse che lui comunque non ha chiuso con te, farebbe più o meno quello che tu hai fatto quando tu hai scoperto che lui aveva aperto con lei. Cioè, voi vi trovate agli estremi di una situazione simile e speculare. Se io convivessi, andassi a convivere con lei, lei avrebbe molte più occasioni per vedermi. Cioè, io starei dinanzi a lei molto di più al centro dell'attenzione, al centro del palcoscenico, sotto i riflettori. In questo caso, più che parlarci di narcisismo, di un signore ci parla di un personaggio sotto i riflettori. Quindi, perché diventerebbe il nemico in casa? Diventerebbe il nemico in casa perché io mi porto da militare la fazione opposta dentro casa e magari sgama che questo conquistatore sta andando a conquistare una donna o che comunque c'è ancora qualcosa in sospeso del passato? Eccola qua, l'amante con una donna. Ecco il motivo per cui non vuole convivere. Perché lei forse lo vuole anche, ma potrebbe controllarlo e lui non vuole essere controllato. Caspita. Bene, aspetto di scontro.